Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Sono Ashish Gaming Channel e oggi riporto Minecraft sul canale Andiamo con il giocatore singolo e andiamo a continuare la nostra carriera Cioè il nostro mondo Ok eccoci qua tornati in game Qui l'altra volta ci eravamo lasciati avendo fatto tutto questo Quindi ora andiamo a dormire Almeno è giorno, perfetto E andiamo a cercare nuovi paesaggi La mia conservazione che devo fare è perché qua non è giorno Vabbè Ritorniamo a dormire Ok Ora dovrebbe essere giorno E invece non è ancora giorno Perfetto il nostro letto non funziona a niente Guardate che qua dovrebbe chiudere Eccoci anche così Ok 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 Devete andare a provare a coltivare qualcosa Ok Ok Eccoci qua Ok abbiamo Trasformato Abbiamo fatto finalmente la nostra zappa Per riuscire a coltivare il nostro orto Magnifico orto Ok E lo coltiviamo Lo coltiveremo qua Facciamo un attimo di pulizia Ok Ok Lo coltiviamo qua Ok Perfetto 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 Ok ok ragazzi sto iniziando a piantare perché prima devo toglierlo con la zappa e poi devo piantare le erbette eccoci qua ragazzi e adesso dobbiamo creare delle botole perché non mi piacciono assolutamente questi pezzi di legno quindi ce li distruggiamo e andiamo a farci le botole bisogna di 6 pezzi di legno levigati quindi noi prendiamo 6 pezzi di legno levigati no facciamo così 1,2,3,4,5 e 6 e superiamo 2 botole perfetto adesso bisogna capire in che ordine metterle questo qua lo distruggiamo ok può ridere di far così ma ci passiamo no perfetto quindi possiamo metterle così hop hop e qua 3 botole 1,2 e la terza dobbiamo andare a fare quindi spacchiamo un po' di legno ok ok andiamo a costruire le nostre botole hop hop no vediamo se non poter farla meglio ok perfetto ora sta già facendo notte quindi dormiamo ok in teoria dovrebbe esserci l'alba adesso in teoria eh vabbè torniamo ancora a letto stiamo anche facendo guacciare la carne perchè dovremmo poi andare anche ad esplorare ma prima innanzitutto dobbiamo finire il nostro orto pianta benissimo mettiamo qua delle strutture piccole intanto un po' per fare che pare anche se non mi sono straccianata comunque abbiamo stress ok adesso non so voglio provare a fare un un recinto non so degli animali ok dopo aver creato il nostro orto piccolo orto adesso iniziamo a creare qualcosa per stoccare i nostri oggetti che metteremo qua cioè è il la nostra chest adesso 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 dobbiamo andare a prendere del legno otto lavoriamo il legno tac 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 ora dobbiamo mettere due tre quattro cinque sei sette e otto perfetto vediamo che possiamo creare cancelletto nient'altro quindi ci prendiamo il nostro bel baule ok i semi di zucca non sono male e anche incomincierei a farci la staccionata perchè voglio creare una fattoria ok vediamo se possiamo crearne ancora un'altra ma non credo no beh iniziamo a piazzare il nostro baule qua nel nostro baule ora ci mettiamo tutta la roba che abbiamo trovato che non ci serve quella è inutile ok carbone carne cotta pastiglino stifoli teniamo vabbè pastiglini ci ripartiamo spada ok questo lo partiamo ok vado a procurarmi altro legno per fare un'altra staccionata ok ragazzi sono andato in giro a cercare pezzi di legna e ho trovato anche si denti di leone buco non sono male per un po' di decorazioni piccole e così facciamo così dai ok denti di leone tac prima prima di andare a cercare prima di andare a trovare gli animali dobbiamo ancora fare il nostro recinto quindi direi di fare il recinto qua dai piccolino perfetto lo spazio l'ho fatto e ora sto andando a cercare gli animali ragazzi non faccio in tempo a portarvi a portarvi il resto della cassa quindi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao